Giovedì 4 luglio, buongiorno e ben ritrovati con la nostra rassegna stampa. Apriamo questa edizione con la notizia che riguarda la rivolta nel carcere di Pescara. Ieri pomeriggio 60 detenuti hanno messo a suo quadro le celle e tentato di sequestrare un agente della penitenziaria. Intervenuti la squadra mobile e le pattuglie della Guardia di Finanza in supporto. Motivo della protesta, la difficoltà lamentata dai detenuti nei colloqui e nei contatti con i familiari. Nel Tg delle 14 vi forniremo maggiori dettagli su quanto accaduto. E intanto a Termoli nasce la giunta Balice, sei assessori, tre donne e tre uomini con deleghe da assegnare dopo l'insediamento del 10 luglio in Consiglio Comunale. Entrano Silvana Cicciola e Paola Cecchi per Fratelli d'Italia, Mariella Vaino per i Popolari per l'Italia, Michele Barile, diritti e libertà, scelto come vice sindaco. Gli altri due assessori sono Enrico Miele di Forza Italia e Michele Cocomazzi per la Lega. Tutti i dettagli li trovate sull'edizione odierna di Primo Piano Molise. Ed è stata ritrovata in Germania la bimba scomparsa un mese fa da San Giovanni Teatino. Era in un appartamento con la madre Puscher, condannata a 18 anni per droga e inserita tra i 50 latitanti più pericolosi. La donna è stata arrestata. Valentina Ciarlante. È stata ritrovata a Duisburg in Germania la bambina di 8 anni scomparsa il 26 maggio scorso da San Giovanni Teatino. Nelle scorse ore il blitz della polizia tedesca, grazie alle indagini della squadra mobile di Chieti e dei carabinieri del reparto operativo di Pescara, si è provveduto al fermo di tre persone, tra cui quello della madre. La donna, 49enne pescarese, era irreperibile da sette anni, tanto che il Dipartimento Centrale della Polizia Criminale del Ministero dell'Interno l'aveva inserita nell'elenco dei 50 latitanti più pericolosi. Insieme al compagno e padre della piccola era stata già arrestata per spaccio di droga e detenzione illegale di armi e la bimba, fino ad allora, era stata costretta a dormire tra sostanze e pistole, fino a che è stata affidata alla nonna, agli zii e poi al sindaco del paese. Stava frequentando un centro di Pescara come stabilito dal Tribunale per i minorenni dell'Aquila quando la mamma, condannata a una pena di 18 anni e 11 mesi di reclusione, e a pagare una multa di 51.800 euro per produzione, vendita, acquisto illecito di stupefacenti ed evasione, l'ha presa e portata con sé su un bus partito da Bologna per la Germania. La donna, pusher di professione, aveva commesso i reati per cui è stata condannata a Pescara tra il 2006 e il 2017. Fondamentale la collaborazione, oltre agli scambi info-investigativi, tra le forze dell'ordine tedesca e quelle italiane, tanto da arrivare all'irruzione di Duisburg, all'esecuzione del mandato d'arresto europeo e al ritrovamento della bimba. Ora si attende l'estradizione. Bene, diamo ora lettura delle prime pagine dei quotidiani regionali e nazionali, partendo come di consueto da primo piano Molise, che apre con Termoli, con l'aggiunta Balice, dentro tre donne, due assessori a Fratelli d'Italia, Cicciola e Cecchi, uno a Diritti e Libertà, Barile, che è anche vice-sindaco, uno a Forza Italia, Miele, uno alla Lega, Cocomazzi, e uno ai popolari Vaino, le deleghe dopo il primo consiglio. Intanto a Campobasso, trattative ancora sottotraccia per la nascita appunto della nuova giunta forte. Tagli ai treni, Roberti apre a Correttivi, ma non convince le opposizioni. Dal fronte Sanità arrivano novità, Scellini, direttrice del distretto di Campobasso, da Isernia, Pride, resi noti i dettagli, Castrataro annuncia, parteciperò, proprio per la cronaca, proprietari in casa, ladri scatenati a Isernia e Campobasso, dalla costa sequestrata una tonnellata e mezza di pesce, sanzioni per 25 mila euro, Castiglione sperona l'auto dell'arma al confine con l'Abruzzo, in manette un cinquantenne con precedenti per droga. Lo studio della Neuromed Veronesi, tumori e patologie cardiovascolari, seguire la dieta mediterranea fa bene, il modello alimentare è associato a una ridotta mortalità. Vediamo il punto che oggi è a firma di Romano Mignogna, Campobasso vuole l'unità, l'appello. E poi per lo sport, Lupi ingaggiato, il difensore fort, qui ambiente perfetto, intanto l'Anderserra firma un triennale. Serie D, Isernia e Termoli tra domanda di iscrizione, e calcio mercato in entrata. Poi basket e calcio a cinque, Moscarella entra nella prima squadra con la Magnolia, c'è anche un acquisto per il CLN Gus Molise. Passiamo alla prima pagina del centro, che apre con il ritrovamento della bambina, che era scomparsa a tre arresti, blitz in Germania, la piccola era a casa della zia, pescarese latitante da sette anni. Nuova giunta, il sindaco Masci tutto pronto, entro venti giorni naturalmente si parla del comune di Pescara, e poi Stellantis, nuovo stop produttivo di una settimana. Per la cronaca, droga e risse nella zona del terminal, Pescara a dieci giorni nell'omicidio di Crocs, continua il via vai di Puscher e giovanissimi clienti. Sotto alla testata, scuola, bus e scontro in regione, sulla gara unica per 305 comuni, export, pasta di fara e vino montepulciano, trainano l'Abruzzo. Poi di spalla, serie A, oggi calendario, Juve a Pescara il 3 agosto. E fondo pagina, Sebastiani pronto a lasciare, l'imprenditore Navarra potrebbe prendere il 51% del club. La trattativa per il cambio di proprietà del Pescara è sempre dalla costa, asili nido, graduatorie pronte, fuori 187 bambini, multe e caos solleciti per quelle già pagate. Parliamo di Montesilvano. Passiamo ora alle prime pagine dei quotidiani nazionali. Partiamo dal Corriere della Sera, che apre con il pressing su Biden, il giallo del ritiro, New York Times e CNN. sta valutando di fermarsi, la Casa Bianca smentisce, voci infondate, il presidente perde ancora terreno nei sondaggi, la vice Harris potrebbe sostituirlo. Oggi la Gran Bretagna intanto va al voto. Poi andiamo sulla cronaca. L'uomo in fuga dall'ergassolo, il suocero è in Francia, con la compagna e il figlio. Poi parliamo anche dei voli, Ita parla tedesco, via libera alle nozze con Lufthansa. Democrazia, Mattarella, no all'assolutismo di Stato. Questo è il discorso del capo dello Stato. Un berrettini straordinario intanto, ma alla fine vince Sinner a Wimbledon, un derby italiano di grande livello. Yannick passa al terzo turno. Diamo ora un'occhiata alla Repubblica, che in apertura parla di discorso di Mattarella, la no al potere illimitato. Il Presidente della Repubblica teme derive illiberali, pericolosa un'autorità senza opposizione. Un fermo no all'assolutismo di Stato. La settimana sociale di Trieste definisce una causa primaria, la necessità di battersi affinché non vi siano analfabeti di democrazia. La tentazione di Meloni abbandonare il premierato e tornare al presidenzialismo. Anche qui si parla del Presidente Biden, che valuta il ritiro, secondo il New York Times, e Trump vola nei sondaggi. Politica nel DDL carceri, rispunta all'abuso d'ufficio, piante dosi in aula, l'antisemitismo è trasversale, dice. Passiamo alla prima pagina del Messaggero, che apre con Ita Lufthansa, c'è l'ok dell'Unione Europea, via libera all'acquisto da parte del Colosso tedesco, Paletti a tutela della concorrenza sull'inate e sulle rotte Fiumicino, Nord America, Giorgetti, non pagheranno più gli italiani. Il richiamo del Colle, la maggioranza non è senza limiti, dunque no all'assolutismo da parte del Presidente Mattarella, il Ministro San Giuliano Bene Meloni, la destra guarda avanti, c'è dunque l'intervista al Ministro della Cultura, il Sindaco di Roma Gualtieri, investire sulla capitale anche dopo i lavori per il giubileo, appello al Governo per le compensazioni, feriti abbottigliate per la pelle scura, ma siamo italiani, l'uomo di origine indiana, malmenato a Roma, erano in sei, tutti i giovani del nostro quartiere, anche qui si parla del giallo, del ritiro di Biden, New York Times, Joe valuta un passo indietro, la Casa Bianca smentisce. E vediamo ora il tempo, l'apertura del quotidiano romano, che è dedicata anche in questo caso a Biden, Casa di riposo, dunque titolo forte, anche ironico, dopo le voci di Biden verso il ritiro, ma la Casa Bianca smentisce, il New York Times, il dossier 007 USA, che circola in Italia, nessun annuncio, prima del 18 luglio. Ita e Lufthansa vanno a nozze, l'ex Alitalia torna protagonista, i contribuenti ringraziano, parla l'ex Cisle Bonanni, meglio con Berlino, Parigi ci avrebbe marginalizzato. La sentenza a shock, cercello, pene dimezzate agli assassini del carabiniere. Anche qui si parla del derby di tennis, che è andato a Sinner contro Berrettini. Vediamo ora la prima pagina del Fatto Quotidiano, i democratici fanno la festa a Biden, derby tra Kamala e Michelle, Obama lo scarica, New York Times e CNN pensa al ritiro, lui resto, l'asino nella stanza, il virgolettato, così lo chiamano i suoi deputati, in caso di resa, investirà anche la vice Harris per tenere i fondi della campagna, ma nei sondaggi vince la Obama. Continuiamo a parlare di politica, Verdi con Ursula, Meloni rischia di finire all'angolo, Salvini contro Mediaset, Premier d'accordo. E poi Comune in mano alla mafia, sindaco di Aprilia arrestato, ma aboliscono l'abuso. E ora il manifesto, vediamo il quotidiano comunista, grande fotonotizia che riguarda il discorso di Mattarella, avviso ai governanti, la democrazia non è della maggioranza e non si riduce al diritto di voto, il Presidente della Repubblica non ci gira attorno, oggi riparte l'esame del Premierato e Mattarella avverte La legge elettorale non può distorcere la rappresentanza con marchi ingegni. Vincerà il Labur, slittato a destra, oggi Gran Bretagna alle urne, suicidio annunciato per i Toris, poi le penissi già padroni, Bardella, niente duello, TV. Un'imbarcata di Panzer sull'asse Roma-Berlino, business bellico, questo è il titolo del manifesto. Passiamo ora alla verità, vediamo con cosa apre il quotidiano, la doppia morale dei giudici, come mai un efferato assassino condannato in primo e secondo grado, non era sottoposto ad alcuna misura restrittiva e ha potuto fuggire prima della sentenza di Cassazione, mentre l'incensurato Toti, solo indagato, è da mesi privato della libertà, questo è il lunghissimo interrogativo che si pone la verità. le carte del caso Genova, così i PM hanno ignorato le piste dell'agente segreto e del PD. Poi anche qui si gioca anche un po' ironicamente su Biden, rimban Biden sull'orlo del ritiro, si ingrossa la fronda dei democratici. Sì, a Ita Lufthansa parte pure un'alleanza militare di terra e poi la Meloni caccia i nostalgici, ai progressisti, non basta mai come voleva si dimostrare, neppure la durissima lettera ai militanti di Fratelli d'Italia spegne le denunce di fascismo e razzismo. Vediamo ora le notizie economiche sul Corriere sulle 24 ore. Apertura dedicata ai controlli sulle imprese, riforma al via, tasse non riscosse, rate fino a 10 anni. Il Consiglio dei Ministri l'obiettivo è scommettere sulla prevenzione più che sui controlli ex post. La riforma della riscossione concede più tempo ai contribuenti in difficoltà. Poi c'è un'intervista al Ministro Zangrillo verifiche più efficaci. L'impresa non è una nemica. Nozze tra Lufthansa e Ita, via libera di Bruxelles, ora la sfida alle low cost. Intanto a Los Angeles il Made in Italy con la Vespucci, la missione, lo storico veliero e nave scuola della Marina Militare sarà nel porto del Pacifico fino all'8 luglio. Boom di fusioni spinte da Netco nel 2024 verso i 100 miliardi. Vediamo anche le notizie sportive sulla Gazzetta dello Sport che apre con la Juventus. Una gran signora, Zaniolo, libera Cup Miners dopo Douglas, Luis e Turam, la Juventus all'assalto dell'olandese dell'Atalanta per dare a Motta un super centrocampo. Inter al via con Taremi, Lautaro e Turam arrivano più tardi, largo all'iraniano. Per il Milan altro sì, Emerson Royal pronto a firmare per cinque anni. Parliamo anche della nazionale, Buffon avanti con gli azzurri, avrà più poteri il capodelegazione. Gioia Montella, tutta la Turchia in volo con me, in corsa all'europeo. Parliamo chiaramente anche del Magico Sinner che batte nel derby Berrettini in 4-7 e passa al terzo turno di Wimbledon. Il palleggio di Maradona e a Napoli fu subito amore dopo 40 anni della presentazione a Napoli c'erano 60 al San Paolo chiedo scusa c'erano 60.000 persone solo per vedere Diego. Bene, prima di salutarci diamo un'occhiata dal palinsesto odierno alle 11 mafia e religione secondo episodio alle 12 camminando molise alle 14 prima edizione del nostro telegiornale alle 16 e 15 convegno il valore del sapere Crepe Castel di Sangro alle 18 camminando molise alle 19 e 30 seconda edizione del TG News alle 21 zona sport alle 23 ultima edizione del nostro notiziario. Bene, è tutto anche per oggi io vi ringrazio per averci scelto buona giornata arrivederci a presto a presto a presto Autore dei sovrapposti